Quando un anno fa Francesco Maragno vinse le elezioni a Montesilvano sapeva già che cosa lo aspettava. Un comune dove la magistratura entrava ed usciva dal palazzo e una situazione debitoria importante. Oggi a un anno di distanza Maragno può già tirare una linea e fare un mini bilancio su quanto fatto, quanto c'è ancora da fare e quello che poteva essere fatto ma non è stato fatto. Bisogna ricordare qual è l'eredità pesantissima che noi abbiamo trovato quando ci siamo insediati al palazzo di città e nonostante questo abbiamo lavorato seriamente e correttamente per rilanciare l'immagine di questa città inserendoci anche in quel contesto che vedeva ormai Montesilvano al palo per quanto riguardava le opere pubbliche. Per una città che si è ritrovata sul baratro del default partendo da una situazione gravemente deficitaria credo che questi siano dei risultati non lusinghieri ma eccezionali. Probabilmente potevamo fare di più e certo che potevamo fare di più l'ottimum è il nostro obiettivo sappiamo benissimo che è difficile da raggiungere però continuerà a essere il nostro obiettivo per i prossimi quattro anni. Se il sindaco vede tutto rosa l'opposizione non è dello stesso avviso al di là dello spettacolino funebre messo su quasi a celebrare il funerale dell'amministrazione comunale le accuse nei confronti del primo cittadino sono quelle di un'assenza totale sotto tutti i punti di vista. C'è un'amministrazione che è completamente latitante un sindaco che non si vede neppure per le strade della città che non fa altro che piangersi addosso per problemi finanziari ed economici che conosceva perfettamente prima di candidarsi per cui mi domando per quale ragione si sia candidato se non è pronta ad offrire alla città un'alternativa valida si dimettesse. Contestiamo un anno di attività amministrativa lacunosa e priva di ogni tipo di iniziativa utile alla collettività sia dal punto di vista dei tagli della spesa che dal punto di vista di ricerca delle nuove risorse. Ovviamente più passa il tempo e più quell'immagine che noi avevamo dedicato al sindaco cioè quella di Pinocchio prende corpo e sostanza.